Il 31 maggio Raffaella Paeta vince le elezioni, quali sono le priorità del PD? Intanto tocchiamo ferro e facciamo tutti gli scongiuri, siamo assolutamente certi che vincerà le elezioni, ma aspettiamo il 31 e invitiamo soprattutto tutti gli elettori a recarsi al voto e a dargli il consenso che si merita. Sicuramente per la nostra provincia l'economia e il lavoro sono priorità fondamentali del programma elettorale di Raffaella Paeta. Nell'economia e nella ricerca di nuovi posti di lavoro voglio mettere anche il turismo, oggi siamo qui a parlare della proposta programmatica di Raffaella Paeta sul rilancio del turismo Ligure. Portiamo dei dati con delle esperienze concrete sull'importanza dell'aumento delle presenze di turisti nel nostro territorio e sul conseguente aumento dei posti di lavoro legati a questo comparto che per la nostra Liguria è importantissimo. Non dimentichiamo chiaramente tutte quelle che possono essere le altre tematiche di cui abbiamo discusso in questa campagna elettorale. Rimarco ancora una volta come il Partito Democratico Raffaella Paeta è l'unica che sta facendo una campagna elettorale sui temi di merito e sta facendo delle proposte concrete per il governo della nostra regione.